Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video! Allora, continuiamo con la saga del come posso accendere in maniera domotica il mio albero di Natale? La TuttoTec oggi vi da un'altra opzione oltre alla presa smart. Andiamo a parlare del Sonoff, ora ve lo faccio vedere così poi andremo a vederlo un po' più nel dettaglio, come si monta, come si configura, c'è già un video comunque all'interno del canale. Prima di tutto questo ragazzi vi invitiamo ad iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo tale da essere avvertiti, ogni qualvolta noi caricheremo un nuovo video. Ma prima di tutto questo, noi vi lanciamo la nostra sigla! Questa è la nostra vecchia conoscenza, il diciamo Sonoff, non è della marca Sonoff, è smart home, ma comunque fa la medesima funzione. Cosa succede? Abbiamo una parte in ingresso dove arriva la corrente e una parte in uscita, che è questa, che porta la corrente alla ciabatta in questione. Io ho fatto una cosa proprio brutale, quindi questa qui è la presa di corrente che si inserisce, i fili arrivano direttamente qui, escono e vanno a comandare la ciabatta. Questo praticamente fa da interruttore, quindi il nostro dispositivo domotico, ogni qualvolta io darò il comando, va ad accendere e spegnere, questo va a switchare su accensione e spegnimento semplicemente. Detto questo ragazzi vi basterà seguire le istruzioni nel video che abbiamo già fatto di questo prodotto per poter far sì che vi funzioni la ciabatta. Ora vi faccio una dimostrazione proprio veloce. Abbiamo collegato la presa, abbiamo visto che inizia a lampeggiare il pairing del Sonoff, passatemi il termine Sonoff. A questo punto andiamo sul cellulare, apriamo la nostra app Smart Life e facciamo la connessione con la presa. Fatto questo faremo la prova direttamente con il nostro dispositivo domotico. Ci vediamo dopo. Ed eccoci qui. Mi è bastato semplicemente rientrare nella app Smart Life, fare una ricerca, questo viene identificato come presa, una volta che l'ha trovato lo si connette, gli date voi un nome, io in questo caso l'ho chiamato luci natalizie e ho collegato i led che vedete nella parte posteriore. Adesso facciamo una prova, però prima di fare la prova vi ricordo ragazzi mettete il mutuo, io metterò il bip ma per sicurezza mettete il mutuo al vostro dispositivo domotico. vi ho avvertito, quindi facciamo la prova. Spegni luci natalizie. Accendi luci natalizie. Tenete presente che in questo caso abbiamo collegato queste serie di luci ma poteva esserci collegato qualsiasi altro tipo di elettrodomestico o prodotto che utilizzava la presa di corrente. Questa era un'alternativa che secondo noi è valida per poter collegare un solo prodotto che comanda la ciabatta direttamente a tutte le prese in base alla ciabatta, alla disponibilità delle prese che ha la ciabatta e poter comandare direttamente il vostro albero o magari se avete anche il presepe potete sbizzarrirvi ed accendere tutto quanto insieme. Per quanto riguarda poi invece la possibilità di fare delle routine, quelle abbiamo sempre un video all'interno del canale, potete tranquillamente andarlo a vedere, anzi vi metto qui la scheda, qui, 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 dovrebbe essere qui. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao! Musica 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 Musica